Ragazzi voi non siete pronti a quello che state per vedere Ragazzi proviamo ad arrivare a 10.000 mi piace per questo video e per nuovissimi video in compagnia di Peppo e gli altri youtuber nei 2 vs 2 Io sono sicuro che questo video vi strapperà almeno una risata perché io nell'editarlo mi sono davvero sentito male dalle risate Vi invito chiaramente a iscrivervi tutti al canale se non foste ancora iscritti per nuovissimi video di Clash Royale Buona visione ragazzi! Salve a tutti ragazzi sono Piazza bentornati nel mio canale oggi ragazzi siamo qui per fare un video in compagnia di presentati pure caro Ciao allora sono Peppo e oggi insieme a Piazza faremo i culi I culi, i culi, tutti i culi che vuoi Come ben sapete sono uscite di nuovo come ormai è solito i 2 vs 2 e quale migliore occasione per non collaborare ovvero i 2 vs 2 Quindi direi che tu adesso se non sai come si fa te lo spiego vai sul clan e clicchi su anzi no prima dobbiamo fare il mazzo però Io pensavo ragazzi per questa sfida appunto di inaugurare qualche mazzo un po' troll per prendere per il culo l'avversario Vuoi fare il mazzo ignorante? Quindi si va dal mazzo quindi hashtag mazzo ignorante nei commenti ovviamente sotto la descrizione vi lascio anche il canale di Peppo Perché comunque lui anche lui fa anche clash royale ma principalmente minecraft Minecraft Minegraffen Minegraffen Con Erobran Ci facciamo questo mazzo solo incantesimi e ci vediamo tra pochissimo ragazzi Ragazzi ecco qui il mio mazzo Quello di Peppo sarà molto simile perché praticamente la sfida consiste nel riuscire a fare 3 corone utilizzando solamente gli incantesimi Non sarà facile assolutamente ma non sarà facile Solamente c'è qualche altra carta in più ma più o meno siamo lì Lui vedete una carta che io non so purtroppo quindi l'aspettiamo È ignorante È ignorante Lui dice che sei ignorante vai clicca su battaglia tra i piani d'alto a destra che partiamo subito Allora per il mazzo Ah ma si vede il mazzo c'è l'arco x si vede il tuo mazzo è vero Mamma mia Oh l'arco x è ignorante è l'arco x Guarda qua Io vado di fulmine sulla centrale eh Oh porca puttana allora Eh allora Vado di fulmine pure io Vai 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 bravissimo bravissimo Ok Eh ci siamo difesi Eh vabbè è come fermi quello Ci penso io ci pensa a piazza Eh ma sei troppo forte Allora Allora Hai il barile goblin Ho il barile Ok lancialo Vai 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 sono pronta a clonare Eh non è andata come speravamo Va bene va bene lo stesso Allora Non è andata come speravamo Allora io volendo C'ho il tronco io Vai troncali 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 Oh troncati sul nascere Allora Vai vai Allora Razzo Vai io razzo Anch'io razzo Ma io pure Ti prego se non c'è una così me ne vado Vai 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 sei lo specchio di nuovo razzo Quanto ignorante L'ho usato L'ho usato No cazzo Vai Qui subiamo Qui subiamo Eh Ci provo No questa è questa Questa torre qui è persa Oddio perché scusami Vai Bam Bam E la torre rimane lì E rimane lì Vado con la fulmine Mamma mia Sulla torre centrale Allora Vai Vai Eh minchia ho costato tanto Vai non difendo vai Oddio Vado col barile goblin No Aiuto Cavolo Cavolo Eh dobbiamo difendere Aiuto Vai 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 Barile vai Pepo Vai Pepo Barile Barile No Si è difeso benissimo Razzo Servono tre razzi Abbiamo vinto Peppo Servono tre razzi L'è finita Oddio Oddio Eh si tre Vabbè ma tre con che potenza No 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 Ce l'ha pure lui Un pezzo di merda Ti prego dimmi che ne hai l'altro Aspetta Sì L'ho tirato Ti prego tiralo 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 No Abbiamo perso Sai di quanto Che cazzo No 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 Ascolta me Tolgo l'arco X Metto l'elisir Raga Ragazzi Stavolta Allora Li abbiamo perse tutte Ma stavolta Stavolta insegniamo a giocare Io C'ho Fireball Tronco Non ho una bella partenza Se tu hai razzi Spara lì Eh va Per forza Eh vabbè Eh vabbè Nooo Ho visto male Sono un coglione Pensavo fossero scheletrini Madonna Questa è una mossa Da top player mondiale Madonna Io sono concentratissimo Eh Non lo sposti Eh qua subiamo Dai vabbè Vabbè Ok 1 a 0 per lui Vabbè ma ci sta Cazzarola 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 Sì subito Allora Allora Sai che ti dico Lancia il barile goblin Ne lancio 2 Clona lì Clona lì Clona tutto Clona ciò che ti capita No 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 Ho lanciato troppo presto Nooo Nooo Eh questa è l'emozione Ma no facciamo Eh questa è l'emozione Cazzarola Devi fermare qui gli arcieri Perché Tanti Eh Eh Più di così Non so che fare Eh Doppio troppo Vado a zappare per il mini pecca Madonna Vabbè Vabbè Ma ti è piaciuta sta doppia zap Mamma mia È bella sta zap Che ma che ma Battute a parte Abbiamo fatto una difesa Con le incantesimi Della madonna Oh veramente Oh Che ha difesa con le pozze Allucinanti eh Barile vai Buttato Vai col barile Io sono pronto con Ma io Io raccogelo tutto Vai Eh lancia qualcosa Vai 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 2500 Nooo Eh qui ci fa la torre Però Vai 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 Eh veloce Eh più di così Difendi Siamo vivi Vabbè Ha 4 razzi 4 o 5 razzi Cominciamo a contarli Uno Ce la facciamo Ce la facciamo Oddio C'ho là c'è la prestazione Oddio 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 No No Bravo Bravo Dai Eh vabbè qua Che cosa fai Tranquillo si fa Si fa razzo Peppo Peppo Difendo io razzo Razzo Eh Sono senza Lissip Mi difendo io Tu pensa all'attacco Vai 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 Ti prego Ti prego Lancia qualcosa Peppo Non ci credo Peppo 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 Ti prego Non ci credo Nooo Nooo Avevo lanciato la veleno Non ci credo No 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 Due di vita No E non lo accetto No Non lo accetto Non ci credo Non ci credo Due di vita Due di Di nuovo Un'altra Andiamo Ci siamo assolutamente Si Oh che figata Però Mamma mia Quanto mi sto divertendo Allora Io vado dentro Subito con un Tu hai Il barile goblin Vai 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 Lancia 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 il razzo Volevo fare Barile Ok Allora vai Adesso lancia il barile Dove lo sto lanciando io Fotti Tene Vai bam E congelo Vai In alto Clonazione Clonazione Vai Peppo Ci siamo Dobbiamo Dobbiamo difendere però Perché se no Allora servono due razzi Due razzi Definita Allora Calma 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 No 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 Ti prego Devi difendere Ok bravissimo Eh Fai qualcosa però A posto A posto Due razzi Peppo è definita Abbiamo mille di vita Noi No Dobbiamo difendere da questo Ci pensi Ci pensi a difendere Ok Aspetta No 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 È tornato Per forza No no Ci serve Un razzo Su quella torre E dove sta caricando Lo carica Tu carica Vai 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 Fireball Tronco 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 Ragazzi È finita Abbiamo vinto Ci Ci Abbiamo vinto E che cazzo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ce l'ho vinto Vince con il mazzo Solo Pazzioni Ce l'abbiamo fatta Io ringrazio Infinitamente Peppo Perché siamo qui Da quattro ore e mezza E inoltre vi ricordo Che io per la sera Alle 20 Ragazzi Sarò in live Per 24 ore E sarà un'impresa incredibile Madonna Buona fortuna Sì Tutto ricavato Le donazioni Andrà donato A Save the Children Perché l'ho già fatto E quindi sarà una bellissima cosa Bello Bello E ragazzi Io direi che sono super soddisfatto Super Peppo Si è prestato Mi raccomando Sul link in descrizione Ma farò un intro Un po' più preciso Dov'è Vi dirò tutto Vabbè Figuro Io ragazzi Vi saluto e vi ringrazio Lascio la chiusura A Peppo Perché insomma È lui l'ospite Di questo video Di questo canale Per oggi Io vi saluto e vi ringrazio Detto ciò È tutto Ciao Ciao ragazzi Ciao Sì, sì, sì.